Oggi è il 12 settembre, il penultimo giorno di vacanza nelle Marche. Abbiamo iniziato la giornata con un piccolo trekking a Montalto delle Marche. La Chiesa di Santa Maria Assunta è il Duomo di Montalto delle Marche ed è una delle due concattedrali della Diocesi di San Benedetto del Tronto, prima Transone e Montalto. Nel 1965 è stata elevata la dignità di Basilica minore da Papa Paolo VI. La Chiesa di San Benedetto del Tronto è stata elevata la famiglia della Diocesi di San Benedetto della Diocesi di San Benedetto del Tronto. Il presentatore è stato elevato la famiglia della Diocesi di San Benedetto della Diocesi di San Benedetto del Tronto. La Chiesa di San Benedetto del Tronto è stata elevata la famiglia della Diocesi di San Benedetto del Tronto. Ci sono molti vecchi palazzi a Montalto, ma Palazzo Paradisi, la roccaforte originale, è il più antico, originariamente chiamato Castello della Rocca, fu costruito dalla famiglia Paradisi Aronne. Chiesa di San Pietro, risalente al XVII secolo all'interno del nucleo storico. Anche qui ci sono stati danni, una frase molto vecchia, ci sono la mia strugunta. Si tratta di un canale, non si tratta di un canale. Questa è la chiesa del San Nicolò, un barocco risalente al XVI-XVII secolo e questa è l'apertura e il municipio. In mezzo a tante case distrutte ci sono anche delle case riviste a nuovo. La nostra visita al centro storico di Montalto Marche è terminata. Monti di Nove vista dalla strada per Montalto delle Marche. Grazie.